Girava per Altamura indisturbato di notte alla guida della sua auto. La presenza del giovane però non è passata inosservata ai carabinieri della compagnia d'Altamura che controllano il territorio per l'emergenza sanitaria in atto. I militari hanno fermato il giovane per verificare i motivi della sua presenza a quell'ora tarda e considerate le prescrizioni del governo. Durante queste verifiche però il giovane si è mostrato subito preoccupato. I carabinieri così hanno perquisito il ventenne trovando nella tasca del suo giubbotto 3 grammi di marijuana. I controlli così sono stati estesi anche nell'abitazione del giovane. Sotto la seduta di un divano erano nascosti 7 sacchetti in cellofan contenenti 220 grammi di marijuana. Il ventenne, un altamurano incensurato, è stato quindi arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari. Le accuse sono sia di aver violato le norme imposte dal governo che di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.